Quando è cominciato tutto? Quanto è antico il nostro pianeta? Non è esattamente una domanda facile a cui rispondere. Serve una traccia, un punto di partenza. Servirebbe trovare una roccia che non sia cambiata fin dalla nascita della Terra. Ma la Terra è mutevole. Tutti i processi geologici nato sul pianeta hanno profondamente modificato la materia di cui è fatto. Questo rende davvero difficile stabilire quali rocce abbiano conservato la loro composizione originaria o quanto siano cambiate da allora. Servirebbe un paragone, qualcosa con cui confrontarle. Servirebbe un meteorite. Già, un meteorite, un frammento della nebulosa da cui ha avuto origine il nostro sistema solare con tutti i suoi pianeti, Terra inclusa. Eccolo allora, il nostro frammento di roccia originario. Qui ne vedete alcuni. Sono caduti in vari punti sulla superficie della Terra e sono stati raccolti e analizzati dagli studiosi. Ed è così, dallo studio dei meteoriti, dal confronto della loro composizione chimica con quella delle rocce attuali, che siamo riusciti a stabilire quanto sia antica la Terra. Quanto? 4 miliardi e mezzo di anni.